Salve a tutti amici di Marcosbox, benvenuti in questa prima puntata del 2013 di 4 chiacchiere interna mondo open source. Puntata di quest'oggi che voglio dedicare alla notizia del momento. Come avete avuto il modo di leggere sia sui blog di telefonia che sui blog dell'open source, ma anche su alcune testate nazionali, sull'edizione Ocraine. C'è un articolo su Corriere, uno sulla stampa se non vado errato. Canonical ha annunciato ieri il rilascio verso la fine del 2013, inizio 2014, del suo Ubuntu Phone OS. Ubuntu Phone OS che, come avete avuto il modo di leggere, è praticamente una versione dedicata agli smartphone di Ubuntu. Una versione nativa che si differenzia da Ubuntu Phone Android che è stato presentato lo scorso anno. Ma che praticamente ne potenzia l'esperienza. Perché? Perché è appunto una versione nativa di Ubuntu. Una versione di un sistema operativo on-by che si ispira fortemente al micro-artman del Foo N9, della Nokia. Riprende quindi il concetto di swipe, lo fonde con il concetto di launcher laterale di Unity, aggiunge alcune funzionalità come la ricerca globale di Unity, la gestione delle notifiche, il centro unificato per la gestione dei messaggi e altre cose. E appunto lo ripropone in un unico device, device che nella sua versione prevista completa potrà beneficiare della desktop convergence. Praticamente quello che faceva Ubuntu per Android, ovvero collegando il device ad una basetta, è possibile tramite un monitor, mouse e tastiera di avere un'esperienza desktop Ubuntu quasi comprita, diciamo così. Quasi comprita perché comunque naturalmente non avremo memorie enormi e i limiti delle CPU attuali. Questo sistema operativo sulla carta offre delle grandi potenzialità, anche perché, come è stato annunciato nel video di Mark Shatworth, consentirà anche a partner commerciali di poter avere una versione personalizzata del sistema, aggiungendo applicazioni, potendo intervenire nella gestione, landscape, poi leggete l'approfondimento sul blog. Il problema è che, ragionando a freddo, mettendo da parte la parte entusiasta di bambino, amante dell'open source che c'è in tutti noi, noi che amiamo l'open source, uno pensa, ma quale futuro potrà avere Canonical nel settore della telefonia? Perché uno dice questo? Perché, come ben sapete, il 2013 sarà un anno di grandi cambiamenti nel settore della telefonia. Android vedrà le nuove versioni. Apple, che è l'atto big, ha annunciato la disponibilità della nuova versione di iOS. Microsoft, nella fine del 2012, ha rilanciato Windows Phone 8, con una sua interfaccia unica per tablet, dispositivi smartphone e computer. Android, abbiamo anche i grandi vecchi che ritornano. Blackberry ha annunciato la disponibilità del suo nuovo sistema operativo. Abbiamo i nuovi, che arriveranno nel corso di quest'anno. Accantonato un po' dai più, la notizia di Firefox OS, che è il sistema operativo basato su HTML5, nato insieme alla Fondazione Mozilla, e che si è già avviato nello scorso anno cercando dei partner commerciali, fra i quali, ricordiamo, ci sarà anche Telecom Italia, per quanto riguarda l'Italia, che dovrebbe presentare i primi dispositivi quest'anno. Se non vado errato, i primi dispositivi verranno commercializzati in Brasile. E andranno a ritagliare quella nicchia di mercato dei dispositivi con non grandi pretese hardware. Abbiamo anche un altro big del settore della telefonia, che sta cercando di fare il colpaccio. Sto parlando di Samsung, che ha annunciato che nel corso del 2013 rilascerà diversi dispositivi con Tizen. Tizen è il sistema operativo open source, spaggeggiato anche da Intel. Quindi, Canonica se la vedrà con questi grandi big, che hanno praticamente i soldi. Riuscirà dunque a scontrarsi ad armi pari, riuscirà ad imporsi, a trovare una nicchia, perché, appunto, questi competitor avranno comunque tutto il 2013 per presentare i loro prodotti. Quindi, hanno comunque un nome. È innegabile che quando uno parla di smartphone, nell'immaginario dei non addetti ai lavori, i device dell'Apple sono quelli, sono quelli, i smartphone per antonomasia. Per utenza business, anche in questo caso, i device dell'Apple sono quelli che nel settore business, nell'azienda, danno più facilmente. C'è comunque Windows che si sta affacciando. Dunque, ricapitolando. Canonica. Riuscirà a ritagliarsi una fettina di mercato? Di mercato? O praticamente non riuscirà a fare nulla? A voi la parola, a voi i commenti. Alla prossima. Ciao ciao! Ciao!